La dottoressa del GF si è espressa nuovamente contro la coppia di Shaila e Lorenzo ma in confessionale gli autori le avrebbero tirato le orecchie. GF, Maria Vittoria contro Shaila e Lorenzo, ripresa dagli autori. Shaila e Lorenzo continuano a dividere la casa nelle ultime ore e sono piovute altre critiche, sia da Enzo Paolo che da Maria Vittoria. Ecco cosa sta accadendo nella casa del GF. Maria Vittoria svela il rimprovero degli autori. Cosa le hanno detto in confessionale? Shaila e Lorenzo sono i protagonisti assoluti delle clip del Grande Fratello soprattutto dopo il loro ritorno dalla Spagna. I due innamorati però hanno anche diviso le opinioni sia dei coinquilini che del pubblico che li segue. In molti non credono che la loro passione sia totalmente vera ma esagerata per desiderio di apparire davanti alle telecamere. Nel post puntata di lunedì si sono scatenati ulteriori litigi, che hanno coinvolto Lorenzo, Elena e Maria Vittoria. I toni si sono alzati di molto, con urla e pugni sbattuti sui tavoli ed era inevitabile che i protagonisti venissero chiamati in confessionale per parlare dell'accaduto. La Minghetti ha poi rivelato ai coinquilini cosa le avevano detto gli autori in confessionale, poi mi è stato detto che ho esagerato nei modi. Così mi è stato detto. Quindi io penso e rifletto che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato. Forse potevo evitare qualcosa, e quindi ho ragionato, ma tutto qua. GF, inquilini contro Shaila e Lorenzo, lo sfogo di Maria Vittoria. Nelle scorse ore anche Enzo Paolo, si è nuovamente scagliato contro Shaila Gatta, affermando di non credere alla sua sincerità, la ballerina ha fatto un passo verso Javier ed i due si sono chiariti con tanto di abbraccio finale. Nella casa anche Maria Vittoria Minghetti resta della sua idea, quella che ha espresso anche in diretta durante il confronto con Shaila. Io non credo nemmeno a lui, non solo a lei. Però sì, smetterò di parlarne, tanto quello che penso non cambia e spero che da fuori vedano tutto. Il pubblico sta apprezzando la sincerità di Maria Vittoria, tanto da farla salire al primo posto nell'ultimo televoto e salvarla così dall'eliminazione. Ora davvero la Minghetti non si esporrà più su Lorenzo e Shaila. I fan si augurano che quello degli autori sia stato solo un consiglio e non un'imposizione perché ne andrebbe della sua spontaneità nel reality. Voi cosa ne pensate?